Signore, al lavoro! Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. Ci diamo del tu? Gli studi parlano chiaro. Durante la maggior parte dei colloqui ad una donna si tende a dare del tu, ad un uomo, del lei. Ma siamo oneste. Quante risponderebbero, ma anche no grazie, sapendo che c'è in ballo la propria assunzione? Sì, certo. Nessun problema. Bene, bene. Iniziamo subito. Preferisco partire sempre dalla cornice per farmi un'idea del quadro generale. Se sei pronta, comincerei. Signora o signorina? E si parte con la numero uno nella classifica delle domande più gettonate per un colloquio di lavoro a una donna. Per un datore di lavoro è importante sapere quanto la signora o signorina sia legata a un'altra persona e quindi quanta disponibilità abbia da investire sul luogo di lavoro. Signora. E hai delle restrizioni che non ti permettono di viaggiare o spostarti? La numero due è sempre la mia preferita perché loro se le studiano, eh? Non è che fanno le cose così alla come viene viene. Hai delle restrizioni? Vale a dire, hai dei figli? Sarebbe scortese essere così diretti. No, tra l'altro credo che si tratterebbe di situazioni straordinarie e non del tutto ordinarie. E come pensi di bilanciare il lavoro e la famiglia? A tutti gli uomini sarà capitato di certo di ricevere la stessa domanda. Ah no? Ah già! Si dà per scontato che a casa ci sia una moglie che sappia bilanciare perfettamente al posto loro. E come ho sempre fatto. E cosa ne pensa tuo marito dei tuoi piani di carriera? Non vedo come la risposta possa aiutarla nella selezione, ma mio marito è soddisfatto del mio percorso. Ma che buona! Quest'aria di 1800 che si respira, non trovate? Cosa ne pensa tuo marito? E cosa hai intenzione di indossare in ufficio? Credo quello che sto indossando ora. Beh, questa la fanno per forza solo alle donne. Non è che gli uomini abbiano così tanta scelta. Giacca, cravatta, pantaloni, maglione o felpa. Noi possiamo scegliere tra un abito corto, uno un po' più corto, ma non troppo, che poi diventiamo provocanti e aggiungiamoci però una bella scollatura, è così, giusto per rendere più ben disposti i clienti nei confronti dell'azienda. E come ti troveresti a lavorare in un ambiente in prevalenza maschile? Non fa differenza il team in cui sono inserita, mi adatto e lavoro bene con tutti. Hai mai pianto sul luogo di lavoro? No. Probabilmente a un uomo non verrebbe mai chiesto neppure se ha mai pianto in generale nella vita, perché si sa, i condotti lacrimali sono una prerogativa femminile e oltretutto fondamentale per la selezione lavorativa. Bene, concluderei questa prima parte dicendoti che sei sicuramente sulla buona strada. Fattureremo sicuramente di più con una come te. Mi fa piacere sentirlo, ma non abbiamo parlato delle mie reali competenze. Da cosa l'ha ridotto? Beh, insomma, con quel bel faccino sarebbe sicuramente una risorsa in più. Si scherzava? No, perché sa, noi in ufficio facciamo spesso battute, scherzi spinti. Intendevo dire che la dipendente che cerchiamo deve rappresentare al meglio l'immagine dell'azienda. Quando si parla di differenze tra uomo e donna esistono ancora molte persone che sostengono che siano discorsi da femministe, esagerazioni, perché nella loro opinione i risultati raggiunti dalle donne oggi sono tanti e questo è vero, ma ciò non significa che la cultura della nostra società non sia profondamente abituata a perpetrare comportamenti apparentemente innocui, ma che nascondono una discriminazione. Il colloquio di lavoro è una delle situazioni in cui emerge in maniera evidente il diverso trattamento riservato alle candidate di sesso femminile. Domande all'apparenza inoffensive creano disagio e sono usate come discriminante per l'assunzione o meno della candidata. Rifiutare di rispondere, sostenere di non essere a proprio agio o far notare all'intervistatore che le domande poste non sono legali porterebbe allo scarto della candidata. L'unica domanda da farsi è se ne vale la pena oppure no. E se poi hai fatto carriera? Sei una donna con gli attributi. Sì, perché ti devono applicare i genitali maschili per dire che hai grinta, tenacia, determinazione, come se fossero caratteristiche esclusivamente maschili. Oppure dai, hai fatto carriera ma a chi l'hai data? E anni di studio, di lavoro, di sforzo e tutto quello che hai fatto in un attimo, puff, sparisce come per magia. Vi ricordate il detto dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna? E dietro una grande donna sempre una grande donna e tanto lavoro e sacrifici. Perché le donne lo sanno che allora è richiesto di più per arrivare allo stesso traguardo di un uomo, allo stesso stipendio di un uomo. Ma spesso non basta perché può capitare che due ragazzi si incontrino, si innamorino e può essere che abbiano un figlio. Lei rimane a casa, latta, svezza e così se ne vanno via almeno due anni. E non è detto che al suo ritorno il lavoro e la posizione che si era costruita siano ancora lì ad aspettarla? Ah, e in caso di pandemia mondiale, tranquilli uomini, il 98% di chi perderà il lavoro in Italia sarà donna. Nel mese di dicembre su 101.000 nuovi disoccupati, 99.000 sono donne. Dati Istat. Grazie a tutti.